Di Bala testimonia alle autorità che indagano sullo scandalo fiscale della Juve. E fa gravi accuse. Bene! Amici miei, prima di tutto lasciate un like per far sì che questo video possa raggiungere più tifosi bianconeri. In una deposizione alle autorità che indagano sullo scandalo fiscale della Juventus, Paolo Di Bala ha mosso gravi accuse contro la squadra. L'attaccante argentino, attualmente al Roma, ha affermato che la Juventus gli deve ancora dei soldi. Di Bala ha dichiarato che la Juve gli deve 3,7 milioni di euro di stipendi arretrati. Le parole dell'argentino. Non mi ricordo quando la Juventus mi ha pagato l'ultimo stipendio, ma so benissimo che mi deve ancora dei soldi. La Juventus ha l'ultima occasione per pagare questi 3 milioni. In caso contrario, il mio avvocato presenterà richieste scritte, ha detto Di Bala. Di Bala ha anche detto di non voler entrare in alcun contenzioso legale con la Juventus e di voler solo che la squadra paghi gli stipendi arretrati. Spero di non arrivare a tanto. Voglio solo i miei soldi indietro, ma evitando di avere problemi per me e per la Juventus, ha dichiarato Di Bala. Queste sono state le parole di Paolo Di Bala durante la testimonianza alle autorità che indagano sullo scandalo finanziario che ha portato alla perdita di 15 punti della Juve in Serie A. Chiedo ai bianconeri. Cosa ne pensate dell'atteggiamento di Di Bala? Commentate qui sotto. Il miglior commento verrà fissato in cima.